Hanno provato l'ebbrezza del dilettante allo sbaraglio ma anche la gioia del metterci la faccia per una buona causa, drenare fondi per la comunità Chiara Luce che accoglie ragazze e madri e gestanti sole. Sono volti arcinoti della politica, delle istituzioni, dell'imprenditoria, del giornalismo locali che a rapporto col pubblico ci sono abituati, non esattamente con quello teatrale e infatti l'emozione è tanta. L'emozione è a mille perché io non ho mai recitato in pubblico. Ad improvvisare, sì sono abituato alla scena. Ma si scioglie sul palco del Politeama Greco che li vede attori, cantanti, ballerini di pizzica, i più gettonati, poesie e brani da leggere che fanno esporre di meno. Gli hanno scelti il presidente della provincia Antonio Gabellone, l'assessore regionale Loredana Capone e il magistrato Paola Guglielmi. In un momento in cui siamo tutti presi dalle difficoltà bisogna fare squadra. Più che una seconda carriera diciamo è un gesto di solidarietà, di più non speriamo. La platea è una cosa che non mi lascia indifferente. Il sindaco Paolo Perrone ha duettato invece con la vicepresidente della provincia Simona Manca nella lettera de sdegno del trilusta Salentino Enrico Bozzi. Una serata di sorprese, tra le altre le doti coreutiche dell'imprenditore del caffè Antonio Quarta, l'ironia dell'assessore comunale Gigi Coclite a recitare una celebre canzone del repertorio in vernacolo accompagnato dal sax di Raffaele Casarano. Perché l'iniziativa ha mobilitato anche molti artisti di professione, per gli altri i performer per una notte. Magari non ci sarà un seguito e in alcuni casi c'è da augurarselo, ma spirito e finalità strappano comunque l'applauso.